Rivoluzione dei parcheggi prevista in varie zone di Fano e quanto emerge dalle disposizioni della giunta comunale ad Aset sulla nuova organizzazione dei parcheggi a pagamento. In particolare in piazza Kennedy ne entreranno in funzione 31 stalli. La sosta diventerà invece da totalmente gratuita a parzialmente a pagamento per assicurare la rotazione delle auto al servizio delle attività commerciali della zona. In via indipendenza invece i posti auto a pagamento saranno trasformati a disco orario. Intanto partiamo assicurando subito che i posti tanti erano a pagamento prima e tanti sono a pagamento oggi quindi non c'è stato nessun aumento perché parliamo di 31 posti che vengono messi a pagamento in una determinata area e che vengono sottrati da altre parti. Nel contempo ci sono stati una serie di servizi sicuramente migliorativi perché ad esempio è stata intanto accolta la richiesta da parte dei portatori di disabilità e quant'altro di poter usufruire anche dei parcheggi a pagamento nel momento in cui gli stalli dedicati alle persone portatrici di disabilità sono occupati. D'ora in avanti coloro che sono portatori di disabilità o chi li accompagna possono utilizzare qualora trovassero occupati gli stalli a loro dedicati qualsiasi posto all'interno delle griglie dei parcheggi a pagamento chiaramente gratuitamente semplicemente applicando in bella mostra la certificazione richiesta. La riorganizzazione risponde anche alle esigenze di creare maggiori zone di sosta per le biciclette agevolando così la mobilità sostenibile con l'installazione di rastegliere per dieci velocipedi che verranno piazzati di fronte alla stazione ferroviaria. Altre invece saranno dislocate anche in via le 12 settembre di fronte al Battisti. Invece in via Cavallotti, via Mura Malatestiane in parte in via della Bazzia verrà predisposto un semplice spostamento del parcometro. Rivoluzione anche per il pagamento dei ticket con un'app che verrà utilizzata attraverso gli smartphone. Sono delle app molto semplici nelle quali basta inserire il proprio numero di targa nel momento in cui si scende dal veicolo e disinserirlo nel momento in cui si sale nel veicolo e quindi non ci saranno più corse, non ci saranno più fughe, non ci saranno più problemi per chi utilizza questo servizio. Sulla situazione in cui riversa il parcheggio sito in via Roma sulla questione dei ticket il presidente ha aggiunto. Il canone mensile è di un euro al giorno quindi non è che parliamo proprio di situazioni nei quali è difficile non trovare posto e ci risulta che è quasi sempre vuoto quindi la disponibilità per chi vuole in qualche modo utilizzarlo c'è, ci continua a essere. Grazie. 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 Grazie a tutti.